Sabato pomeriggio 10 febbraio 2024 sono a Firenze, alla casa di Dante, c'è il vero messaggio della personale di mia sorella Susi. Sì, sì, Susi la Rosa. La mostra si intitola Scuda, che in siciliano vuol dire Ascolta. Ma nonostante la pioggia, quanta gente, quanti amici, quanti artisti. Ci ha portato qui il calore della Sicilia, perché è siciliana d'origine ma di adozione toscana, giusto? E dipinge da tantissimo tempo, tanto per dire che mi sono segnato qui alcune delle sue attività. Allora, che è giusto dire, dalla Torre 18 all'Angelico, presso la casa di Giotto a Vespignano, poi dal 2015 membro dell'Associazione Culturale Toscana Cultura di Firenze, nel 2016 membro dell'Associazione Culturale Antica Compagnia del Pagnolo, il Cenacolo di San Cimignano e Associazione Culturale Ali e Associazione Culturale in Arte di Cerveteri e non poteva mancare la Società delle Belle Arti, il Circolo degli Artisti, Casa di Dante, che siamo noi. E quindi è approdata da noi e ha voluto subito fare la sua performance artistica e siamo qui per questo. Dunque, come vedete c'è una serie di lavori dove prevale soprattutto il monocromo, prevale il colore rosso. Il rosso, senza entrare troppo nel sistema critico delle opere, ma questo qui è la prima cosa che salta agli occhi. Il rosso è il colore della passione, dell'amore, della forza. E quindi non solo, ma è anche il colore della forza appunto di uscirne dalle grandi emozioni della vita. Innanzitutto grazie a te. Grazie per avermi invitato, grazie per avermi dato la possibilità di dare, non un mio giudizio, ma un mio racconto. Perché questa mostra, non la chiamerei mostra, questo è un bagaglio di memoria. Un bagaglio di memoria che Susi mi ha preso per mano in un pomeriggio, in un incontro, e mi ha raccontato cos'è l'arte, cos'è la famiglia, che cos'è il mare. E questa mostra parte proprio dal suo mare. Lei arriva da un'isola con il fuoco dentro, la Sicilia. Questo fuoco dentro anima, crea sangue, emozioni. Cosa sono le emozioni? Emo, in greco, è sangue. E il mare di Susi si tinge di rosso, di questo rosso sangue che va a investigare non tanto quello che è un'ammirazione di un fenomeno naturale, quanto un'investigazione delle onde della sua anima. Questa è Susi La Rosa, che ha cominciato un lavoro monocromo, come mi hanno preceduto, e il monocromo in questo caso è studio. In questo caso il monocromo è analisi. Lei si definisce Miss Perfettini, e di Perfettini c'è parecchio. Non c'è una linea, non c'è un grumo, non c'è un'entità che è fuori posto in tutto ciò. E comincia questo viaggio, in questo mare emozionale, in questo mare che ha un ricordo di un blu. Se voi cominciate a girare, tra le tele più grandi, trovate una memoria. Questa memoria è quella memoria ancestrale che si porta dentro, a cui ha sovrapposto invece il suo mare. Il suo mare, come vi dicevo, emozionale. A questo mare siciliano, emozionale, che sta vivendo dentro, ha associato dei ricordi che vanno oltre, vanno alla famiglia, vanno al luogo, vanno alle qualità che hanno costruito interamente Susi La Rosa. Lei è riuscita, in un racconto, in un pomeriggio, ad immergermi in tante suggestioni. E il viaggio è cominciato così. È come se noi dovessimo lavorare in maniera totalmente analogica. Non è la logica che mi ha guidato a pensare che sia Susi o ad analizzare il suo lavoro, ma un percorso analogico. Vogliamo provare a entrare insieme? Allora, fate finta di essere in un mare immenso e di giocare a fare il morto. Mentre state lì, vi state facendo trasportare dalle onde, non c'è una direzione, ma la direzione me la impone la natura. Questa natura è quella natura che sta guidando questo lavoro. La necessità di arrivare all'astrazione, un'astrazione materica, quella che lei ci racconta, è il voler disegnare l'indisegnabile. Fontana diceva, facendoci tagli, che l'infinito passa di lì, non c'è più bisogno di dipingere. E invece con Susi il rosso diventa una necessità di pittura. Non c'è più bisogno di arrivare a una connotazione materica, figurativa. Non c'è più bisogno di entrare in un qualcosa che racconti il visibile, perché lei ci sta raccontando le pieghe che ha un'anima. Questo sorriso solare, gioviale, questo sorriso che ti avvolge, in realtà nasconde, nasconde tanto. Come nasconde quel blu attraverso i suoi rossi, come queste materiche che entrano nei suoi quadri vanno a toccare dei bianchi che si vanno a sottoporre alla forza di un rosso. Ecco che la pittura diventa un atto di coraggio per Susi, perché si mette a nudo, si spoglia. Io le ho detto privatamente, sei coraggiosa, perché se noi riusciamo insieme a lei a fare il morto in mezzo alle onde dell'Atlantico, perché è così che lei dipinge, riusciamo a capire questo modo di lavorare, che non è assolutamente logico per quanto lei si ritenga perfetta. E tutto questo bagaglio di memorie fatte di mare, perché le acque si imprimono come si imprime il nostro cervello da un punto di vista proprio di ricordo, la fanno ritornare da dove è arrivata. È come se si facesse ambasciatrice di una cultura, di una cultura che però è fatta di minime cose. E di fronte a lavori materici molto grandi che troviamo nelle prime sale, pian piano questa matrice si riduce, si riduce, si riduce, per arrivare a dei piccoli lavori nell'altra sala. E nell'altra sala voi incontrerete la sua famiglia, incontrerete il suo ricordo del concetto di famiglia. Ed è bello perché lei mi ha detto noi non siamo un unicum, noi siamo una parte. E questa parte che ci va a comporre ci fa sentire poi tutti insieme, ma poi rimaniamo dei piccoli frammenti, dei piccoli orfeo che cantavano l'amore, ma sono stati completamente frammentati nel mare. E quindi c'è bisogno di ricomporre questa sorta di puzzle memonico in questo mare che si trasforma quasi in un liquido amniotico, in un liquido fatto di memorie, di dimenticanze, di amnesie, che lei cerca in tutti i modi di fermare. Perché è una collezionista che potremmo dire anche avida. Perché conserva il dettaglio, conserva l'oggetto che può riportare alla memoria. Io vi invito non a dare un'immagine o uno sguardo complessivo, ma di provare a cercare quel dettaglio che lei accuratamente ha nascosto, perché le cose più belle amano nascondersi, e andare a ricercare il ricordo di un padre che era Falegname, che era Fabbro, e l'innesto del metallo ricorda come una matrice, come un'empronta digitale che sta lì pronta a ricordare quella memoria paterna. Una madre sarta che ci fa ammorbidire tra le pieghe di vesti, di stoffe, che si sono diventate quadri. Nuovamente memoria, memoria, memoria. Una memoria bagnata, una memoria impressa, una memoria che ha bisogno di entrare nel suo interno e che a un certo punto della sua vita è stato necessario buttare fuori in una condivisione estrema per poter capire che fin quando noi nella memoria di qualcun altro esistiamo non moriremo mai. Mai. Saremo qui e ricorderemo il tocco di una sarta, ricorderemo l'elemento metallico di un Fabbro, e loro sono lì davanti a una costa siciliana, a Milazzo, guardando le isole di fronte a loro in un mare che ci sta chiedendo di compartecipare a quelle opere. E io stasera, quello che vi posso chiedere è di provare a lasciare anche voi tutto quell'aspetto logico che ormai ci porta nelle mostre d'arte, di non provare a fare paragoni, perché chi fa il mio lavoro è abituato a dire ho rivisto questo e si è appoggiato a quest'altro per poter giungere poi a questo risultato. No. No. Stasera quello che dovete fare è cercare di cogliere il dettaglio, cercare di arrivare al particolare e cercare di entrare in un animo che ha bisogno di ricordare. A questo punto entreremo in un percorso lungo, talvolta tortuoso, che a tratti ha fatto anche paura, a momenti, ma poi senti la necessità, la necessità dell'atto. E partendo dal macro, arrivando al micro che trovate nell'altra stanza, è solo l'abbandono che vi potrà concentrare e a trovare quei dettagli di questo liquido amniotico, di questo mare che si è tinto di rosso, si è tinto di sangue, si è tinto di gioia e che ha prodotto l'opera di Susi La Rosa. Vi ringrazio. Ci siamo conosciute con Susi attraverso l'arte in una mostra collettiva e ci siamo subite, abbiamo vibrato insieme. siamo due ragazze nate al mare un po' più sud di Florentia, si chiama Firenze, in greco, la città che fiorisce, fiore anche. Cerco di trovare un filo, nasco molto timida, alla fine parlo al pubblico perché mi ha portato la vita a farlo e mi appoggerò con il vostro permesso alla lettura di due cose non per autocelebrarmi ma due cose che penso che riflettano oggi l'evento, la mia amica, siamo due ragazze rosse, rosse, del colore rosso nate così e vi spiegherò perché. Il titolo della mostra ci invita ad ascoltare ma l'ascolto di cui noi intendiamo come artisti è collegato a un ascolto che va oltre le orecchie. Bisogna arrivare alla pelle e dalla pelle poi arriva da tutte le parti attraverso il sangue e bisogna, secondo me, come io approccio le cose che guardo, sento o le esperienze della vita e bisogna liberare la testa da ogni giudizio personale perché poi alla fine vedi te stesso e c'è un dialogo a mono come si può dire non è un dialogo alla fine è un monologo e vedi te stesso quando metti un giudizio non riesci a vedere l'altro e quindi vi invito a venire con me in questo racconto mio con questo tipo di apertura è una installazione che ha fatto la Susi e la Sfera che è piena di cerchi completti dove non c'è un inizio e una fine come con tutte le cose dove le lettere galleggiano sempre rosse e secondo me vi invita a comporre la vostra poesia il vostro pensiero la vostra esperienza oggi componendo con le lettere che galleggiano nell'aria quello che diventerà dialogo fra il quadro e voi la vostra anima ci saranno mille dialoghi che si creeranno in questo momento dentro la sala ognuno parlerà con l'artista a modo e per via diversa ho messo giù due parole che due pensieri ecco l'arte è la magia nascosta nell'opera che porta un messaggio a chi guarda e ascolta porta pure un messaggio all'artista stesso quando la realizzano ci possono essere infiniti messaggi in un'opera perché è un dialogo sembra una frase pomposa ma io oggi oso dire che l'arte può sconfiggere il male la morte dentro e la regala regala la vita a chi la presta ascolto affida il suo sguardo senza giudizio l'arte si fa sentire l'arte della Susi con l'impeto del sangue nel corpo l'onda di vita col batito che scandisce il tempo nostro sulla terra e vorrei regalarti una lettura come l'artista è in attesa dell'arte mossa dall'attesa dal desiderio di vita radici crescano salgono e da spirale l'acqua l'acqua sale in alto veste il corpo inondandola di un dolore dolce gravida di così tanta bellezza resta in attesa in ascolto un attimo prima di dare alla luce il suo cuore questo volevo chiudere parlando di me che vibro quando penso alla Susi quando vedo le cose che fa perché mi fa questo effetto sì allora quello di cui ho parlato prima del tempo sulla terra avevo scritto una poesia che parla del tempo e ho pensato che siamo come papaveri sul campo di primavera fragili ma intensi brevi e si regalano la vita per quanto dura vera Rosa? Rosa Rosso la clessidra si è fermata c'è tempo ancora per rimediare la donna addormentata fra i papaveri l'oblio non ti si addice svegliati nutrice del nuovo mondo madre di tutte le nuove anime che il tuo passaggio non sia una brezza ma l'uragano dei cambiamenti i tuoi passi echeggiano nei prati del futuro coraggio ed agape nessuna paura donna questa clessidra si è fermata per te il tempo c'è innanzitutto vi ringrazio per avere dato la possibilità a Susi di essere in questo luogo ho visto persone che mi hanno toccato sia con la critica sia con la poesia sia con conoscendo l'arte che io come voi non conosco e allora mi sono permesso visto che mia sorella mi ha invitato a portare un messaggio culturale un po' della nostra terra bisogna chiarire che c'è una differenza sostanziale nel dire ascuta scritto tutto unito nel dialetto siciliano nel modo imperativo vuol dire ascolta diversamente se ascuta è scritto staccato a articolo determinativo la scuta ascolto assume un significato diverso in quanto si riferisce alla pratica dell'ascolto per cui tradotto in lingua italiana sarebbe l'apostrofo ascolto non c'è un sinonimo in italiano quindi non so come potervi aiutare per farvi comprendere allora ho pensato di dare un esempio con una piccola spiegazione ascuta era una pratica arcaica che si esercitava in Sicilia per interrogare in epoca pagana gli dèi poi in epoca cristiana i santi al fine di avere notizie su persone affetti lontani malattie o per quanto chiesto a sapere in ogni caso se andasse a buon fine o cattivo fine anche ad esempio se un figlio andava in sposo sapere se la persona maritata era buona o cattiva si interrogavano diversi santi in base alla natura della domanda l'artista siciliana Susi ci porta con questo titolo dato alla mostra in un mondo antico dove si mescolano filosofie greche con la cultura romana arabo normanna e cristiana ma conditi di rosso il suo rosso mi permetto di un racconto un'anziana donna in abito popolare lungo sino ai piedi con uno scialle nero a passo lento mi porta con sé per mano lontano dal centro abitato di un paese arroccato sul mare siciliano bisogna raggiungere un quadrivio simbolo della croce ed arrivarci nell'ora mediana in Sicilia con il caldo estivo l'ora di mezzogiorno è ora di calma nei paesini i contadini e i pescatori a quell'ora sono a pranzo giunti sul posto che l'anziana donna riteneva ideale data l'ubicazione e data l'ora esce dalla tasca del grembiule questo grembiule mediterraneo lungo un tozzo di pane ed un pezzo di formaggio rigorosamente caprino e mi dice di mangiare ma in silenzio mangia ma in silenzio mangia muto cioè mangia in silenzio dall'altra tasca esce un rosario semplice artigianale fatto con legno d'ulivo albero sacro ancora oggi quel ricordo mi porta il profumo di toccare quel legno perché il legno d'ulivo non perde mai il suo la sua natura una carezza arriva alla mia testa e l'anziana donna mi dice io mi chiamo Nando Nando cominciamo a scuda cioè Nando iniziamo questa pratica io ragazzino non capisco ho anche un senso di timore lei me lo legge negli occhi e con con un'altra carezza mi aggiunge ascolta che ora Dio caso natura ne parla in tosi lenti ascolta che ora Dio attraverso la natura che lui comanda ci parlerà attraverso i segni inizia invocando San Miguel Alcangelo in quanto l'angelo più importante quindi il santo angelo vicino a Dio quindi parla direttamente con Dio affinché scacci il maligno e se è presente questo maligno lo mandi via affinché i segni che arrivano siano segni giusti poi si continua con l'invocazione a San Giovanni decollato a lui presenta le richieste del sapere ed inizia un rosario particolare San Giovanni decollato il vostro corpo è martoriato che la vostra decollazione date mi aiuto e consolazione siete bene siete male facitemi vedere qualche segnale San Giovanni siete bene che andate a baiare oiaddu cantare campane suonare cene frescare sede male scecchi raghiari e potti chiudere lo recitava per nove volte e vi aggiungeva un pater nostro un ave maria e un gloria tutti i miei sensi entrarono in azione di colpo di colpo sentivo il silenzio con i suoi piccoli ali di divento sentivo il profumo del finocchio selvatico vedevo gli uccelli a riposo essi lenti le cicale parlare fra di loro ho colto pungendomi le more selvatiche gustato quel succo e tinto le mani di rosso sì quel rosso che oggi mia sorella mettendo in moto tutti i miei sensi mi fa sì che io la capisca e mi ha fatto rivivere quei momenti a proposito quell'anziana donna che era mia nonna e devo a lei se oggi ascolto osservo tocco gusto e mi nebrio davanti all'arte e alla natura vi invito a fare come mi insegno mia nonna guardate la mostra con tutti i vostri sensi e raccogliete le vostre sensazioni grazie insomma abbiamo pianto abbiamo riso allora io vi ringrazio tantissimo perché in una giornata di pioggia siete venuti qui siete venuti in tante io non me l'aspettavo proprio quindi e questo è il regalo più bello il più bello in assoluto che potessi avere oggi poi ringrazio la casa di Dante il circolo degli artisti che mi hanno accolto veramente con gioia mi hanno permesso di fare questa mostra oggi e sono stati molto molto compiacenti quindi grazie grazie davvero ringrazio Daniele che più che un critico è diventato un amico quindi le sue parole hanno dato calore voce a tutti i miei lavori quindi grazie Elisa ci ha accompagnato certo c'era era con timbiche con la timbica timbica grega e poi ci ha fatto sentire il mare non è facile trovare quello strumento insomma che ci accompagni e già ci trasporta quindi grazie Elisa sei stata veramente di grande confronto ringrazio Parasca e Vizzerva che appunto quando ci siamo conosciute è nata questa sintonia che è inspiegabile per cui non ci vediamo per tempo ma quando ci vediamo è come se fosse ieri quindi io la ringrazio di cuore Elisa Malatesti ovviamente ganzissima amica mia bravissima musicista brava brava poi ringrazio anche chi ha collaborato con me il Fabbro che mi ha aiutato per l'installazione Busillo Legno Project Pino Marcosano che mi sopporta tutti i giorni insomma quello che voglio dire non è soltanto un elenco di nomi vedo tra di noi tra di voi tantissimi amici i Seven Art che è il mio gruppo insomma e tanti altri quello che voglio dire è questo è che per fare una cosa bella e uno vuole fare se uno vuole fare una cosa bella ha bisogno delle persone ha bisogno dell'aiuto degli altri e se uno sa cercare lo trova poi ringrazio mio fratello che avete conosciuto mio fratello Ferdinando che si chiama Nando che ha reso possibile tutto questo oggi perché ha finanziato appunto con il suo lavoro la mia mostra e lui per me è stato il secondo papà perché praticamente è stato sempre presente per me ogni qualvolta avessi di bisogno sempre sempre e quindi c'è io lo amo io lo amo quindi ringrazio il supporto di tutti quanti tutte le persone che mi vogliono bene e che me lo danno io lo vedo e vi abbraccio tutti quanti tutti a uno a uno anche chi non ha abbracciato ancora quindi aspettatelo e quindi grazie grazie ancora infinitamente di tutto grazie ancora io posso soltanto dire grazie a Susi perché è veramente da ringraziare perché ci ha permesso di fare questa bellissima mostra che poi oltretutto abbiamo montato insieme mi sono trovato perfettamente d'accordo con lei non c'è niente da fare e quello che soltanto voglio ricordarvi di seguirci sui nostri diciamo siti perché noi abbiamo chiaramente non soltanto la pittura ma facciamo presentazione di libri facciamo concerti e quindi da ottobre diciamo da settembre in poi ci saranno vari concerti e se ci seguite potete venire oltretutto è gratuito per cui potete venire qua e starvi un'oretta ad ascoltare degli artisti eccezionali perché sono artisti professionisti non sono così di passaggio sono veramente persone che vengano con piacere a suonare in questo ambiente come ha fatto Susi a fare questa mostra perché lei l'ha fatto veramente con piacere perché lei non è che è venuta stavolta lei viene viene partecipa alle mostre degli altri vi invito a seguirci e quindi come fanno spesso i nostri soci venire anche se non lo siete quindi vi ringrazio della presenza perché veramente siete tanti e dà una grossa soddisfazione a me a Franco che è il presidente e Giuseppe che sta facendo le riprese in streaming e tutti i soci perché anche qui presente c'è la Sonia Guido Del Fungo siamo tutti soci del consiglio e quindi facciamo questo lavoro volontariamente di conseguenza ah laggiù c'è un altro siciliano che è Paolo Lantieri un artista e quindi se vuole farsi una chiacchierata in lingua e quindi niente noi siamo si fa tutto volontariamente però siamo pagati da queste serate queste serate e noi hanno una grossissima soddisfazione di conseguenza io insisto a ringraziarvi sarò noioso ma io ringrazio ancora un'altra volta tutti quanti buona serata quanta emozione uno seguito a tutti a a a a a